Ritorcendo un sottile fiammato di cotone lino con una lana poliamide certificata GRS, otteniamo questo filato, dalla fantasia discreta e accattivante. Con un titolo 6, 20 e 100 da lavorare sulla finezza 7, immediatamente rimanda ad un mondo sportivo, ad una maglieria fatta di dettagli e disegnature del passato, a maglie grafiche segnate da cecco o argais di colori contrastanti. Sulla cartella sono segnalati i colori sempre pronti, per gli altri toni serviranno chilogrammi 6.